Salve a tutti! Oggi continuiamo il progetto della stazione saldando aerea calda con la parte riguardante la programmazione del micro. Infatti, come ci avevamo detti nello scorso video, oggi ci dedichiamo alla parte del microcontrollore. Ho realizzato uno schema blocchi di quello che dovrà essere il codice che verrà inserito sul micro e, come si può vedere, si divide in due filoni non interconnessi fra loro, ovvero partiamo da quello più semplice. Questo è il filone riguardante il controllo della velocità della vendola, quindi come si può vedere è un codice abbastanza lineare da scrivere in quanto non vi è presente nessun feedback da tenere in considerazione. E in pratica che cos'è che bisogna fare? Bisogna leggere il setpoint, ovvero il valore letto sul potenziometro, quindi la velocità della vendola che noi desideriamo avere. Andare a effettuare un'opportuna conversione dei valori letti, infatti i valori letti saranno divisi in una scala di 10 bit e dovranno essere convertiti in una scala di 8 bit, perché Arduino genera delle PVM con delle divisioni a 8 bit. Inoltre in questa conversione ho deciso anche di non rendere lineare la scala, ovvero non ha senso che quando il setpoint è al minimo, quindi Arduino legge il valore di 0V, va a convertire un valore di 0V e quindi la vendola in sostanza resta ferma. Cioè non ha nessun senso avere una vendola, quindi una pistola ad aria calda che non soffia l'aria. Quindi si partirà da un valore minimo, anche quando il setpoint è settato a 0, di un valore di duty cycle minimo di 20%. Quindi verrà effettuato questa conversione, da questa conversione verrà generata una PVM che poi arriverà alla vendola e quindi la farà girare con velocità diverse. Per quanto riguarda invece la parte di resistenza, quindi dell'elemento incandescente, come si può vedere il diagramma è un po' più complesso ma è abbastanza semplice da realizzare, ovvero partendo dall'ingresso abbiamo che noi tramite un altro potenziometro andiamo a settare il valore di temperatura che desideriamo avere della nostra aria calda. Questo valore e entrerà in un PI. Infatti, ragionandoci, non ci serve avere un PID, quindi la parte è anche derivativa perché essendo che si tratta di fenomeni di tipo termico, sono fenomeni abbastanza lenti, quindi quando si tratta di... quando si ha a che fare con sistemi meccanici o sistemi termici, la D trova in genere poca utilità. Quindi ho scelto un semplice PI la cui uscita passerà per un blocchetto di, che ho chiamato saturazione e protezione. Che cos'è che fa questo blocchetto? Per quanto riguarda la saturazione, quello che a livello accademico viene chiamato tecniche di anti-wind-up, ovvero fa sì che il PI non superi dei valori che potrebbero essere inaccettabili, ovvero può succedere durante i transitori che il blocchetto PI continua a integrare su un errore ed esca da un range di valori che non ha più senso fisico, ovvero se il PI dice al micro di generare una PVM del 120% di duty cycle è ovvio che quel valore non ha nessun senso fisico, quindi quel blocchetto cos'è che fa? Quando il valore equivalente del PI supera il 100% di duty cycle, va in pratica tramite una retazione a resettare il valore integrativo del PI, quindi impedisce che questo valore, nella sostanza di, nel caso di Arduino, superi il valore di 255. Mentre per quanto riguarda la funzione di protezione, in pratica può succedere, avevamo già fatto l'esempio, se dovesse tapparsi la ventola di raffreddamento o il foro di uscita, che la temperatura salga molto velocemente e che la parte integrativa del blocchetto PI non consenta al micro di abbassare repentinamente la PVM, quindi cos'è che andrebbe, cos'è che succederebbe? Succederebbe che la temperatura potrebbe superare valori molto elevati, quindi il blocchetto di protezione cosa fa? Dà una retrazione al PI, ovvero quando la temperatura, in effetti qui va messa anche questa freccetta, perché in effetti il blocchetto di protezione legge anche lui il valore del sensore, quindi quando vede che il valore di temperatura nella pistola supera i 500 gradi, va a effettuare una sorta di hard reset del blocchetto P, quindi butta giù il valore a zero, in modo che la PVM di uscita, in pratica, si disattivi totalmente. Subito dopo il blocchetto di saturazione, incontriamo il blocchetto PVM, ovvero il valore del PI, viene trasformato in un valore equivalente di PVM e questa PVM comanda l'elettronica di potenza che fa riscaldare la resistenza della pistola d'aria calda. Ovviamente qui poi abbiamo la presenza del feedback che quindi torna indietro e arriva fino al punto dove abbiamo il set point, quindi viene effettuata questa sottrazione e da qui ricaviamo l'errore e, in modo continuo, il microcontrollore tiene sotto controllo questo errore. Quello che adesso farò sarà andare a mettere una scheda Arduino Nano su una breadboard e tramite della circuiteria simulativa andrò pian piano a scrivere il codice e, una volta ottimato, vi farò vedere, direttamente sullo schermo del computer, tramite la funzione di plotter seriale, vi farò vedere come si comporta il microcontrollore simulando, per esempio, un set point e una variazione di temperatura con dei potenziometri. Ho montato l'Arduino Nano sulla breadboard e andrò a simulare la temperatura con questo potenziometro. Il set point di temperatura con questo potenziometro è il set point della velocità della ventola con quest'altro potenziometro. Adesso finisco di ultimare il codice e poi ci rivediamo direttamente sullo schermo del PC. Molto bene, ho terminato la scrittura del codice, eccolo qui, completo. Adesso vado per prima cosa a farvi vedere la parte più facile, ovvero il set point della ventola. Quindi apro il plot seriale, ecco qui. Questo è il valore di set point della ventola. Come si può vedere, varia fra un valore massimo, quindi velocità massima, di 255, fino a un minimo di quasi 70-80. Quindi la velocità della ventola varia fra questi due valori, che corrispondono appunto a questo duty minimo e a questo duty massimo, che sarebbe il 100% in questo caso. Ok, adesso invece vado a plottare i valori del pid. Ecco qui. In questo momento la temperatura, potenziometro che segna la temperatura, simula la temperatura e il set point sono nello stesso punto, quindi segna 0. Se io invece vado a far calare, simulo un calo di temperatura, come si può vedere in questo momento il pid sta aumentando il valore della pvm in uscita e salirà fino a quando io, per esempio, non simulo che è arrivato a temperatura e se provo ad aumentare troppo, vedete che è come se lui rilevasse che la temperatura è aumentata troppo e quindi cerca di far calare la pvm. Ora vi faccio vedere quelle due feature di cui vi parlavo prima, ovvero questa è la saturazione, vedete, infatti è arrivata a questo valore, vedete che il pid non integra più, quindi si blocca e se io provo ad andare poco poco sotto, subito lui è pronto a tornare indietro. Quindi questa è una feature molto importante, mentre l'altra, quella di protezione, vedete se nel caso lui scende ma non scende abbastanza velocemente, se la temperatura sale troppo non l'ho beccata, un attimo ok, simuliamo in questo caso, stava riscaldando tantissimo l'elemento, la temperatura è assedita troppo, ecco lui è andato a resettare il valore del pid, quindi ha riportato velocemente la pvm a 0 in quanto ha rilevato questo evento come un evento pericoloso quindi ha azzerato il valore del pid molto bene, quindi il codice è completato adesso non mi resta che poi testarlo sull'assemblaggio finale come si è visto quindi simulando i segnali di input con dei potenziometri sembrerebbe che il codice funzioni perfettamente quindi poi ovviamente lo lascerò in allegato al video in modo che possiate scaricarlo e utilizzarlo quindi adesso che anche la parte del micro controllore è ultimata non mi resta che nel prossimo video andare a completare l'ultima schedina che mancavo, ovvero quella per riscaldare ovvero il filamento della pistola d'aria calda e una volta ultimato quello poi si andranno ad assemblare tutte queste parti che abbiamo visto e si passerà alla prova finale con tutta quindi la stazione assemblata per questo video è tutto alla prossima